All'uscita dell'ospedale Sant'Andrea di Roma, tanti personaggi del mondo dello spettacolo hanno lasciato il loro ricordo commosso alle telecamere di Pomeriggio 5 minuti che ha dedicato gran parte della puntata odierna alla scomparsa dell'amato conduttore. Da Massimo Giletti a Giancarlo Magalli, da Rita dalla Chiesa Marino Bartoletti, ecco le parole dedicate all'amato conduttore.